Buona Pasqua a tutti. Tutti abbiamo bisogno di questo augurio perché in fondo Ressurrezione significa ricominciare. Allora tutti abbiamo bisogno di riprendere slancio, di essere incoraggiati dalla forza della Ressurrezione di Gesù. Mi piacerebbe dire le parole che l'angelo disse alle due donne che erano andate alla tomba di Gesù. Erano andate per onorare il caro estinto e invece l'angelo dice non è qui. Questa parola l'ho trovata anche scritta in un angolo del Santo Sepolcro, in cima agli riconamenti. Una frase che mi sembrava che ricacciasse indietro tutti i milioni di pellegrini che nella storia sono saliti a Gerusalemme al Santo Sepolcro. Non è qui dove sei Gesù Risorto. Appunto sei nelle persone che mi vivono accanto, sei nelle persone che sono in lotta anche con le proprie ferite e posso constatare che nella fede della Ressurrezione possono uscire da quelle situazioni. Trovo Gesù Risorto nei poveri, trovo Gesù Risorto soprattutto, lasciatemelo dire, in quel pane che questa notte di Pasqua di nuovo viene adagiato su quella tovaglia bianchissima. Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Lui abita nel dono di un pane spezzato, un Dio di pane. Buona Pasqua.